Ma per arrivare a questo grado di contemplazione, dice il Signore, bisogna prima purificarsi, essere mondi e netti nel cuore, bisogna aver scacciato l'iniquità ed essere separati dalle acque amare che coprivano la terra, ovvero da tutto ciò che offende la mia vista. Dobbiamo imparare a fare il bene, a rendere giustizia all'orfano e soddisfazione alla vedova, affinché la terra di erba da pascolo e alberi da frutto. Venite, discutiamo, dice il Signore, perché si accendano i lumi nel firmamento e brillino sulla terra. Quel giovane ricco chiedeva al buon maestro cosa dovesse fare per ottenere la vita eterna. Il buon maestro gli risponda, il maestro che egli credeva un uomo e nulla più e invece è buono perché è Dio, gli risponda che deve osservare i comandamenti se vuole giungere alla vita. Deve allontanare da se stesso l'amaro della malizia e della iniquità, non uccidere, non commettere adulteri, non rubare, non testimoniare il falso affinché appaia la terra asciutta e produca il rispetto del padre e della madre e l'amore del prossimo. Questo io l'ho sempre fatto, risponde l'altro. Qual è dunque l'origine di tante spine se la terra può dare frutti? Va e stirpa i foltici e spugli dell'avarizia, vendi tutti i tuoi beni e fai raccolta di frutti dando ai poveri. Possederai un tesoro nei cieli. segui il Signore se vuoi essere perfetto, stai vicino a quelli ai quali egli parla della sapienza, di cosa segnare al giorno e cosa alla notte, per impararlo anche tu, perché anche per te si accendano i lumi nel firmamento. Ma questo non accadrà se il tuo cuore sarà lontano, non si farà se il tuo tesoro non sarà là vicino come udisti dal buon maestro e invece la terra sterile divenne triste e le spine soffocarono la parola. Ma voi, stirpe eletta, debolezza del mondo che avete lasciato tutto per seguire il Signore, camminate dietro a Lui con i vostri piedi belli e brillate nel firmamento, affinché i cieli narrino la sua gloria, separando la luce dei perfetti non ancora simile agli angeli e le tenebre degli infanti non però privi di speranza. Brillate su tutta la terra. Il giorno fulgido di sole diffonda la parola della sapienza e la notte, illuminata dalla luna, annunzi alla notte la parola della scienza. La luna e le stelle brillano alla notte, ma la notte non oscura la loro luce, anzi, queste la illuminano per quanto possibile, ed ecco, quasi Dio avesse detto, siano fatti i lumi nel firmamento, si udì improvvisamente un rumore dal cielo, come d'un vento che soffì impetuoso, e apparvero lingue come di fuoco che si divisero posandosi sopra ciascuno di essi. Così, nel firmamento, si accesero lumi che possedevano la parola della vita. Diffondetevi ovunque, fuochi santi, fuochi piani di bellezza, voi siete la luce del mondo e non siete nascosti sotto lo staio. Colui che avete abbracciato fu portato in alto e portò in alto anche voi. Diffondetevi e manifestatevi a tutte le genti.